Il job act è una grande occasione perduta, si sta trasformando in un blef act. Stiamo per votare la fiducia in Parlamento e noi voteremo contro. Ha una delega sostanzialmente in bianco, non si capisce da che parte vuole andare il governo. Si capisce solo che nessuno ha letto il testo tranne i dirigenti del Partito Democratico che dovevano mettere d'accordo le mille correnti che animano quel movimento politico. arriva in Parlamento un oggetto che non si sa quale direzione prenderà dopo questo voto. Certamente non la direzione da non auspicata, la stella polare della legge Biagi che riteniamo abbia fatto bene a questo Paese, ma più simile alla Fornero che tanto male ha fatto a questo Paese. Dopodiché noi possiamo esprimere il nostro dissenso, Renzi andrà comunque avanti. Probabilmente entro fine serata annuncerà che in un giorno il governo Renzi ha fatto la riforma del mercato del lavoro. La realtà è che non cambia assolutamente niente o forse peggiorano le cose.